Visti gli articoli 533 e 535, il quadro cedificio della penale dichiara Olivetti e Rason, Pierettore, responsabile dei reati a lui ascritti. Tre anni per Pierettore e Olivetti e Rason, un anno per Roberto Bardelli e Luca Mendola ed infine tre mesi per Alessandro Ghinelli. E' questa la sentenza pronunciata questa mattina dalla giudice del Tribunale di Arezzo, Filippo Ruggero. Continua a fare il sindaco fino al 2025. Praticamente è l'unico condannato insieme nel nostro filone, quindi va bene. Vediamo le motivazioni. La sentenza di primo grado sul caso Coingas è stata pronunciata poco prima delle 12. Il sindaco di Arezzo è stato condannato per favoreggiamento reale per il filone e molti servizi. E' stato invece assolto dall'accusa di abuso d'ufficio. Due assoluzioni su tre, la terza la impugneremo e otterremo l'assoluzione in appello. Assolto da tutti i capi di imputazione, peculato e abuso d'ufficio, anche Francesco Macri, ex presidente di Estra. Non c'erano effettivamente prove concrete a suo carico e quindi mi fa molto piacere. L'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Rasone è stato invece condannato per peculato ed è stato anche interdetto dai pubblici uffici. E' una condanna che non tiene conto a nostro giudizio di quello che è stato il risultato del dibattimento, che ha mostrato in maniera assolutamente chiara l'apporto professionale dell'avvocato Pierettore Olivetti Rasone alle ragioni del suo assistito e anche la congruità delle somme che ha ricevuto. Il commercialista eretino Marco Cocci è stato assolto dall'accusa di peculato. Sono stati tre anni e mezzo molto brutti, che non auguro nessuno e adesso mi riprenderò la mia vita professionale in maniera intensa come uso fare da sempre. Assolti anche Maracacioli, ex dipendente Coingas, Stefano Pasquini, avvocato aretino Franco Scorteci, l'attuale presidente di Coingas, Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa ed infine Alberto Merelli, attuale assessore del comune di Arezzo. E' un tritasassi per chi non ci è abituato. La coscienza era posto, mi sembra che oggi la sentenza sia stata, per quanto riguarda il filone di Coingas abbia fatto chiarezza su tante cose e speriamo che ora c'è la Corte dei Conti che dovrà dare un altro segnale forte e certo che questa situazione alleggerisce il sistema legato a Coingas. Un punto di vista strettamente processuale, comunque le parti civili hanno un margine per recuperare quei danni che hanno sostenuto fin dall'udienza preliminare aver subito, quindi i comuni che non hanno ricevuto delle somme che dovevano essere patrimonio della società perché utilizzate in modo illegittimo avranno questo spazio.